Erwin Utkin, un po' la situazione generale dei rapporti tra l'Italia russa, il petrolo, insomma tanti argomenti sul tappeto, vogliamo una tua opinione su quella che è la situazione attuale. Sì, allora parliamo della Russia, un paese enorme che una volta con l'Unione Sovietica comprendeva un sesto del territorio del mondo, adesso solo la Russia un'ottava e molto più dell'Europa, un paese Europa e Asia simultaneamente, per questo che guarda l'Europa ma alle spalle la Cina e guarda Cina, quindi non vuole tradire l'Europa e rimane sempre partner principale ma deve assolutamente guardare anche altri mercati come Cina e per questo parliamo di tutto questo che la Russia sta, è un po' Europa, un po' Asia e parliamo di ultimi anni, anni della crisi, crisi basati sui bassi prezzi di petrolio che la Russia ovviamente dipende, dipende tanto, ma assolutamente da non scordare che in ultimi dieci anni la Russia sta notevolmente staccandosi dalla dipendenza del petrolio, se una volta dipendeva ovviamente meno di Arabia Saudita ma molto del petrolio e ovviamente anche di gas entrate, adesso dipendono anche da altri argomenti come il grano, la Russia è diventato il terzo paese produttore e esportatore di grano nel mondo e ci sono anche altri prodotti. Già da dieci anni la Russia sta cercando di spostarsi dalla dipendenza da import e sta facendo di localizzazione di produzione anche delle marchi del brand stranieri sia del suo, un trend che non era un trend assolutamente necessario ma che è diventato il principale anche con le sanzioni che ha imposto l'Europa e gli Stati Uniti alla Russia, quindi però chiaramente un paese grande che ha risorse naturali ma non ha tutto, non può produrre tutto anche antiproduttivo economicamente ma un terzo di prodotti può fare, un altro terzo se le sanzioni non si togliono a breve termine ma perché noi sappiamo che le sanzioni è molto facile introdurre ma molto difficile togliere. Visto che parliamo di Eurasia voglio solo ricordare che Bielorussia è un paese che non solo come Iran ma anche Bielorussia è appena uscito dalle sanzioni che pensavano che hanno impostato per qualche tempo poco tempo invece durati più di 20 anni quindi spero che la Russia diciamo sanzioni possano togliere già questo anno ma potrei anche aspettare che qualche anno quindi la Russia vive con le sanzioni non c'è la fame stanno sostituendo alcuni prodotti che non si può portare tra cui anche formaggi italiani verdura italiana quindi se non togliono le sanzioni per prima Italia che perde più della Russia ma anche altri paesi europei quindi il primo interesse europeo di togliere sanzioni ma anche la Russia ovviamente poi dipende dipende come Europa se vuole essere indipendente o vuole essere meno indipendente perché sembra che tutti i paesi tra cui anche Italia dicono che le sanzioni fanno male li tagliamo e poi sentono la voce oltreoceana e fanno lo stesso quindi vedremo vedremo la Russia diciamo trend di questo anno i bassi prezzi di petrolio quindi entroiti dal vendita di petrolio e di gas sono ridotti ma comunque qualche spesa pubblica ridotto ma ci sono anche razionalizzazione e ci sono anche trend positivi cioè questo anno con il rublo basso è molto conviene ai italiani e europei andare in Russia che sono diventati molto economico di andare ho visto guardato ieri un noto sito russo e ho trovato che alberghi 5 stelle affacciate sulla piazza rossa e si può trovare albergo a 62 euro a notte quelli che erano 200 quindi si può visitare si può mangiare a 5 10 euro ottimo cibo russo e poi ovviamente con quello basso prezzo di rublo la Russia è diventato un paese molto economico di produrre in certo senso è diventato più economico della Cina con i skills che con i forze di lavoro molto molto educato molto skillato che tutti hanno fatto liceo o anche università quindi è con qualità notevole di produzione diciamo che quindi ad una Europa che trova sempre più difficoltà nella sua unione c'è dall'altra parte un'eurasia che invece con l'attrazione diciamo russa che si sta componendo in maniera sempre più forte sì io direi comunque Europa rimane sempre nel cuore della Russia ma se Europa che gira le spalle alla Russia quindi anche la Russia non può seguire un sogno europeo se ha detto noi vogliamo fare da ricordare ancora in 2000 Putin e ancora il leader europeo che era sembra che Romano Prodi che dicevano di fare unione europea allargata da Lisbona a Vladivostok e questo sogno che era assolutamente appoggiato da Putin è praticamente morto e Russia dal partner commerciale e partner culturale e spirituale se vogliamo è diventato quasi un paese nemico potenziale aggressore che può invadere paesi baltici o Polonia non dice la Russia dicono questi paesi quindi la Russia ancora ama Europa ma dipende come comporta l'Europa se deve essere feeling tutto e doppio amare solo una persona non si può in questo caso continente quindi guarda la Cina e ci sono contratti grossi in energia con la Cina con Asia con Asia con sta costruendo unione euroasiatica insieme con Kazakistan Bielorussia adesso entrati anche altri due paesi Armenia e Kyrgyzstan sicuramente sarà allargato e comunque come osservatori già ci sono paesi dall'altro lato grossi come Cina, India e quindi la Russia sta sviluppando il suo altra faccia quella asiatica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti